Leggo il testo per l'ordicesima lezione. Celebrando su Repubblica il 14 dicembre 1980 i 150 anni trascorsi dalla nascita di Emily Dickinson, Italo Calvino collegava strettamente la volontaria reclusa di Amast al cantore del nativo borgo selvaggio recanatese, cogliendo in Giacomo lo stesso desiderio di una concentrazione assoluta che appare nella scelta esistenziale della poetessa americana. E quando cinque anni dopo, nelle postume lezioni americane, lodò con toni sapienti la leggerezza come condizione preliminare di ogni scrittura, Calvino forse pensava ancora a Emily, mentre dalle antiche lezioni di scienza avute da ragazzina ricavava i materiali per i suoi brevi componimenti, sciogliendo nella bellezza del verso l'antico fervore da laboratorio. Proprio oggi che le comunicazioni celebra l'assoluta inutilità del proprio delirio, la porta chiusa di Amast proclama, come voleva Emily, il segno di una libertà vera e assoluta. Indizi per capire, o per deriderci, ne ha sparsi come in un metafisico romanzo poliziesco. Perché si dice devota a Lord Tennyson, il poeta vittoriano che indica come proprio maestro? Perché in vita non volle stampare i suoi versi? E come si collegava all'immaginario di fuori che pure fa capolino tra allusioni e citazioni? La sconcertante grandezza di Emily non sembra aver trovato ancora una ermeneutica davvero all'altezza di questa sua iniziale solitudine. Giunta a noi con palpiti, pezzetti, brandelli, briciole, la poesia di Emily in realtà ci interpreta. Propriamente ci fa sentire, ad un tempo, commossi e inadeguati. Dovremmo ancora trovare una moralità di lettura, quella che, come nelle fiabe, ci farà essere ad Amherst con l'ermeneutica repentina di Sinbad il Marinaio. E qui ci sono alcune indicazioni. Vedremo perché c'è William Styron alla scelta di Sophie e anche il film di Alan Pakula, film che tranne l'Oscar alla meravigliosa Mary Streep non fu capito. Il citato Tennyson ha in memoriam, l'Emily Dickinson qui presentata è quella presente attualmente sul mercato, ma c'è da segnalare l'appena uscito, veramente una fortuna. Lindal Gordon, abbiamo la ristampa dopo l'edizione del 97, appena in libreria, come un fucile carico la vita di Emily Dickinson, da cui si possono prendere tantissime cose che prima non si sapevano. E poi suggerirei Barbara Lanati, l'alfabeto dell'estasi, che è un grande contributo. La Repubblica che citavo, che ho qui, è il 14 dicembre del 1980. Gli apporti sono di Attilio Verdonucci, di Carl Giuliani, di Beniamino Placido. Né Calvino né Placido, purtroppo ci sono più. Devo dire che ero molto perplesso di fronte all'idea da me stesso, assegnatemi, di fare una lezione su Emily Dickinson, perché non mi sento assolutamente all'altezza di tanta grandezza e conserverò per tutto il tempo della lezione, perché ho fatto tante cose all'interno dei miei corsi universitari, su questa immensità, non mi sento in possesso dei veri strumenti per un'ermeneutica all'altezza di questo sconcertante fenomeno. Poi, quando è morto mio fratello, nel 2005, nel ricordo funebre, ho messo i versi che state per sentire, insieme a un disegno mio, e mi sentavo un tradimento a quel tributo, se non l'avessi inserita nelle 25 scrittrici. Inoltre c'è questo che mi stimola in una direzione diversa, e forse sarà per alcuni un po' pesante, perché non è breve. È il brano dalla Celta di Sofì che riguarda la poetessa. Ora, brevemente dirò che cos'è. Siamo in un momento dell'anno in cui è anche giusto che si rivolga a questo bellissimo libro, ma secondo me poco capito. Il film per niente capito, tranne l'Oscar, recensioni folli. Che cos'è? È l'autobiografia di William Styron, che si chiama Stingo nel film, ed è un giovane del Sud che tipicamente, dopo guerra, nel 1946-1947, se ne va a New York per cercare di collegarsi a biblioteche, a librerie, a caffè frequentati di artisti, insomma, diventare un po' parte di quel mondo che lui adora, ma è troppo giovane per avere potuto davvero conoscere. Nella povera casa, un po' matta, un po' strana, dove affitta una camera, ci stanno due stranissimi personaggi. Con tutta evidenza sono molto provati dalla vita. Lui è uno scrittore ebreo molto versato nell'alcol. Lei è una donna che nella sua bellezza, nel suo fascino, nel suo esserci sempre, sembra però nascondere un segreto. Il segreto è la scelta di Sophie. Ha aderito a una cosa che gli SS facevano davvero, e lo facevano anche più frequentemente di quanto la storia ricordi. aveva due bimbi, un maschio e una femmina, gli hanno detto, quale vuoi tenere che ammazziamo l'altro? La scelta di Sophie. Ha tenuto la bambina, che fra l'altro poi è morta nel lager, lei è superstite, si è messo con questo intellettuale ebreo, e si ammazzano tutte e due quando a un certo punto non ne possono più. Neanche lui ne può più. E io leggo la partenza, il saluto a noi lettori, di William Styron. La scelta di Sophie. Ultime pagine. Il Requiem del reverendo DeWitt al Camposanto fu una versione sintetica di quello che ci aveva già detto nella Camera Ardente. Avevo la sensazione che Larry gli avesse fatto capire che avrebbe fatto bene a essere breve. Il reverendo fornì anche uno squallido tocco liturgico sotto forma di una fiala di polvere che a conclusione del discorso cavò di tasca e svuotò sulle due bari, metà su quella di Sophie, metà su quella di Nathan, un paio di metri più in là. Non era la consueta umile polvere della mortalità. Dichiarò infatti agli astanti che quella polvere era stata raccolta nei sei continenti del mondo più la subglaciale Antartide e che rappresentava il nostro bisogno di ricordare che la morte è universale e che colpisce persone di ogni credo, di ogni colore, di ogni nazionalità. Ricordai ancora una volta il nostro straziante come Nathan, nei suoi periodi di lucidità, fosse ben poco disposto a tollerare il tipo di imbecillità del reverendo De Witt. Con quanto gusto avrebbe deriso e demolito col suo genio parodistico quel noioso ciarlatano. Ma Larry mi stava facendo cenno col capo e io avanzai di un passo. Nella quiete di quel pomeriggio caldo e luminoso, il solo rumore era un sommesso ronzio di api attratta dai fiori ammucchiati ai bordi delle due tombe. Barcollando e ormai piuttosto intontito, pensai a Emen e alle api e alla loro immensità nella sua canzone, nella loro ronzante metafora dell'eternità. Ampio fa questo letto, fallo con timore, aspetta in esso che il giudizio cominci, eccellente ed equo. Prima di continuare esitai un momento. Non mi dava problemi formare le parole, ma mi bloccava l'ilarità mescolata stavolta alla sofferenza. Non poteva avere qualche inesprimibile significato il fatto che l'intera mia esperienza di Sofia e di Nathan fosse circoscritta da un letto, dal momento che sembrava ora lontano di secoli, in cui li avevo per la prima volta uditi sopra la mia testa nel meraviglioso trambusto del loro amore al quadro finale sullo stesso letto, la cui immagine sarebbe in passa in me fin quando il rimbambimento o la morte non l'avesse cancellata dalla mia mente. Penso sia stato allora che cominciai a sentirmi vacillare, a mancare, a disfarmi il mentemente, mentre rammentavo ancora Emily Dickinson. Sia l'izio il materasso, sia rotondo il guanciale, che nessun giallo rumore d'alba interrompa questo terreno. Molte pagine fa ho accennato al mio rapporto d'amore e odio con il diario che tenevo in quell'epoca della mia giovinezza. I brani vivi e validi, quelli che in genere mi astenevole al buttar via, mi sarebbero parsi in seguito quelli concernenti le mie svilizzazioni, la mia vilità frustrata e le mie passioni troncate descrivevano le notti di nera disperizione con Lely Lepidus, con Mary Alice Greenball, che hanno trovato legittimamente posto in questo mio racconto. Il resto di ciò che scrissi era in così gran parte composto di riflessioni immature, di pretenziosità pseudognomiche, di stupide escursioni in seminari filosofici dove non avrei mai dovuto intromettermi e che troncai con decisioni qualsiasi rischio di una loro perpetuazione consegnandoli qualche anno fa a uno spettacoloso auto da fè nel cortile di casa mia. Sopravvissero l'incendio poche pagine isolate, ma anche queste le conservai non tanto per il loro valore intrinseco, ma per ciò che aggiungevano alla documentazione storica, voglio dire alla documentazione su me stesso, della mezza dozzina di fogli, per esempio, che ho tenuto di quegli ultimi giorni, a partire dai frenetici scarabocchi fatti nella latrina del treno, tornando da Washington e sino al giorno dopo il funerale, sono esattamente tra le righe che ho ritenuto degne di memorie. E anche queste sono interessanti, non perché ci sia in loro qualcosa di vicino all'immortalità, ma perché per quanto ora sembrino ingenue, furono se non altro spremute come succhi vitali da una creatura della quale rimase per qualche tempo in dubbio la stessa sopravvivenza. «Un giorno capirò Auschwitz!» Era un'affermazione coraggiosa, era un'affermazione innocentemente assurda. Nessuno capirà mai Auschwitz. Avrei dovuto scrivere con maggiore sicurezza. «Un giorno io scriverò sulla vita e sulla morte di Sophie e contribuirò così a dimostrare che il mio male assoluto non si estingue mai nel mondo». Auschwitz, in quanto tale, resta inspiegabile. L'affermazione più profonda che sia stata fatta sinora su Auschwitz non era un'affermazione, era una risposta. La domanda era «Ad Auschwitz dimmi dove era Dio?» e la risposta era «Dov'era l'uomo?» La seconda frase che ho riesumato dal vuoto può essere un po' troppo facile, ma l'ho tenuta ugualmente. «Che il tuo amore scorra su tutte le cose viventi». Sono parole che a un certo livello hanno le caratteristiche di una vigorosa omelia. Sono tuttavia singolarmente belle, allineate nelle loro oneste, goffe, sillabe. E come vedo ora sulla pagina di un mastro, pagina che ha assunto la tinta di una giunchiglia secca e che il tempo ha lentamente ossidato, si inquasi alla trasparenza, i miei occhi sono colpiti dalla furiosa sottolineatura, scrac, 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 lacerazioni, come se il sofferente stingo che un tempo abitavo o che un tempo abitava a me, imparando di prima mano e per la prima volta nella sua vita di adulto che cosa facessero la morte, il dolore, la perdita, l'enigma spaventoso dell'esistenza umana avesse cercato di estirpare fisicamente da quel foglio la sola verità supertite, forse la sola sopportabile, che il tuo amore scorra su tutte le cose viventi. Ma questo mio progetto pone un paio di problemi. Il primo, ovviamente, è che non è mio. Viene dall'universo, è proprietà di Dio e le parole sono state intercettate al volo, per dire così, da mediatori quali Lao Tse, Gesù, Votamo Buddha e migliaia e migliaia di altri profeti minori, compreso questo narratore che ne udì tamburellare le terribili verità tra Baltimora e Wilmington e la notò con la furia di un pazzo che scolpisse la pietra. Trent'anni dopo sono ancora in circolazione nel lettere. Le ho udite celebrare esattamente come io le ho scritte in una splendida canzone incisa in un programma di country music mentre guidavo nella notte del New England. Ma questo ci porta al secondo problema. La verità di tali parole, o se non la verità, la loro impossibilità, non potrebbe darsi che Auschwitz avesse efficacemente bloccato lo scorrere di quell'amore titanico come un embolo mortale nella corrente sanguigna dell'umanità, o alterato completamente la natura dell'amore si dovrà rendere assurda l'idea di un'amara formica, o di una salamanda, o di una vipera, o un rospo, o una tarantola, o un virus della rabbia, o anche cose belle e benedette, in modo che ha permesso dirigere il nero edificio di Auschwitz? Non lo so. Forse è troppo presto per dirlo. Ho comunque conservato queste parole come memoria di una speranza fragile, ma persistente. Le ultime parole che ho tenuto del mio diario sono dei versi, miei. Spero che mi vengano perdonati in considerazione del contesto nel quale nacquero. Dopo il funerale, infatti, finì con un vuoto di memoria, come si diceva a quei tempi dell'ubriachezza, nella sua variante più amnesica. Andai a Coney Island, in metropolitana, sperando di distruggere in qualche modo il mio dolore. All'inizio non capì che cosa mi avesse attratto in quelle sgargianti viusse, ma non avevo mai considerato tra le più amabili e attrattive della città. In quel tardo pomeriggio il tempo era ancora bello e caldo. Mi sentivo infinitamente solo. Mi sembrava un buon posto per andarci e perdermi. Il campo di corso a ostacoli era chiuso come tutti gli altri empori del divertimento. L'acqua era troppo fredda per i nuotatori. La giornata era mite, attirata da folle di niorchesi. Nelle luci al neon del crepuscolo centinaia di gaudenti e di perdigiorno affollavano le strade. Davanti a Victors, lo squalificato caffeuccio dove le mie gonadi erano state così chimericamente messe in agitazione da Leslie Lepidus e dalla sua ingannevole lussuria, mi fermai un momento, poi prosegui, tornai indietro, perché mi ricordava una disfatta. Mi pareva solo un buon posto per lasciarmi ci annegare. Che cosa spinge agli esseri umani a infliggersi piccoli stupidi colpi di forbici dei ricordi infelici? Ma mi dimenticai presto di Leslie e ordinai un buccale di birra, poi un altro e bevi fino a sprofondare negli inferi delle allucinazioni. In seguito, nelle ore stellate della notte raggelata dall'alito autunnale inumnito dal vento dell'Atlantico, mi ritrovai solo sulla spiaggia. C'era silenzio lì, a parte lo scintillare delle stelle, una volgente oscurità, guglie bizzarre ai minaretti, tetti gotici e torri barocche si delineavano in sagome affusurate nel riverbero del tramonto. La più alta di quelle torri è un'incastellatura simile a un ragno con i cavi che fluttuavano sulla cima. Era il salto col paracadute e proprio da quel parapetto più alto di questo vertiginoso aggeggio avevo udito gli scrossi di risa di Sophie mentre sprofondava giù a terra con Nathan, cadendo con gioia in quell'inizio d'estate che ora sembrava e unì lontano. E fu allora che sgorgarono finalmente le mie lacrime, non più stucchevoli lacrime da ubriaco, ma lacrime alle quali, a partire dal mio ritorno in treno da Washington, avevo cercato virilmente di resistere e non ero più in grado e le avevo talmente represse che ora, in misura quasi allarmante, si riversavano a caldi rivoli tra le mie dite. Era stato ovviamente il ricordo di quella lontana immersione di Sophie e Nathan a scatenare questo diluvio, ma era anche uno sfogo di rabbia, di dolore per i molti altri che nei mesi trascorsi avevano impuriato nella mia mente e che chiedevano ora il mio compianto. Sophie e Nathan, certo, ma anche Ian e Eva, Eva con il suo Miss da un occhio solo, Eddie Farrell, Bobby Weed, il mio giovane Salvatore Nero artist, Maria Hunt Nathana, Wanda McOr von Christman, che hanno solo dei molti figli percorsi, massacrati, traditi, martirizzati dalla terra. Non piangevo per i sei milioni di ebrei, per i due milioni di polacchi, per il milione di serbi, per i cinque milioni di russi. Non ero preparato a piangere per l'umanità, ma per questi altri che in un modo o nell'altro mi erano divenuti cari e i miei singhiozzi facevano uno splurato frastuono sulla spiaggia abbandonata. Poi non ebbi più lacrime da versare e mi assiai cadere sulla sabbia su gambe che in un tratto parevano diventare stranamente fradili e malferme per un uomo di ventidue anni. E dormii e feci dei sogni orribili che sembravano un compendio di tutti i racconti di Edgar Allan Poe, me stesso sisso in due da meccanismi mostruosi, annegato in un torbinante vortice di fango murato nella pietra e più terribile di tutti sepolto vivo. Per tutta la notte ebbi una sensazione di impotenza, di mutismo, di incapacità di muovermi o di protestare contro il peso inesorabile della terra scagliata a un ritmo tad, 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 tad contro il mio corpo supino e rigidamente paralizzato, un cadavere vivente pronto a farsi seppellire nelle sabbie dell'Egitto. Il deserto era ferocemente freddo. Quando mi assai era mattina presto, giacevo fissando il cielo verde-azzurro con il suo osciale traslucido di foschia con un piccolo globo di cristallo solitario e sereno. Venere splendeva attraverso la caligine sopra il tranquillo oceano. Udì dei bambini che chiacchieravano nelle vicinanze, mi mossi. Issi, si è svegliato, ma non raccontarmi balle. Benedicendo la mia resurrezione, mi resi conto che i bambini mi avevano protettivamente coperto di sabbie e che giacevo al sicuro come una mumia sotto quel sottile strato avvolgente. Fu allora che incisi nella mia mente queste parole, sotto la fredda sabbia, ho sognato la morte, ma destandomi all'alba ho visto in gloria la luce, la stella del mattino. Non era il giorno del giudizio, era solo mattina, mattina, eccellente ed equa. Ecco, quello che la reclura di Anerst può avere fatto e avere offerto infinite parole per dirlo da quella camera dalla quale non usì forse per 35 anni, tal che rileggendolo intera, non spessata come fastingo, ampio fa questo letto, fallo con timore, aspetta in esso che il giudizio cominci, eccellente ed equo, sia l'izio il materasso, sia rotondo il guanciale, che nessun giallo rumore d'alba interrompa questo terreno. Chi è? Perché ha l'importanza che gli attribuise William Tyron, cioè quella di offrire ai disperati le parole per dirlo. È una ragazza che nasse in questo strano posto, questa strana famiglia, in questa strana casa e non sembra vivendo 55 anni, dal 30 all'85 potere avere nulla di sperimentale, nulla di veramente vissuto. In effetti la sua ultima e grande biografa ha trovato qualche cosa in quel verso dove lei si definisse come un fucile carico e che immagino sia vero, tristemente vero. Sembra, secondo questa autrice, che non si sia reclusa per desiderio di solitudine, ma perché era profondamente malata, aveva una forma gravissima di epilessia e aveva contratto la paura di avere un episodio epilettico in mezzo alla gente. Non ci sono prove neanche di questa forma di lettura della vicenda di Emily e fra l'altro ho due cose piuttosto strane. Quando eravamo ragazzini gli americani, sempre gli americani, creavano gli usis con un ragionamento da cowboy utilitaristico alla William James, alla John Dewey, Cioè nelle città molto comuniste facevano degli usis United State Information Service grandissimi. A Bari dove i fascisti non avevano neanche cambiato la camicia e il sindaco era il Podestà di tre anni prima non glielo facevano addirittura tanto lì non serviva. È stato uno dei massimi regali della mia miserabile infanzia perché mi sdraiavo in queste poltrone e ci davano ancora quei librettini che erano su carta sottilissima resistentissima perché sono collidentici li guardavo poco fa che venivano buttati dagli aerei e è lì che l'ho conosciuta per la prima volta ed è lì che sono stato avvinto da questo mistero perché il mio amico Calvino mio carissimo Calvino non mi sembra abbia moltissimo ragione anzi che abbia una volta tanto un bel po' di torto nel conditributo che dà lui alla celebrazione su Repubblica tra Amherst e Recanati d'Italo Calvino è poca cosa il pianto sono brevi i sospiri pur i perfatti di questa misura uomini e donne muoiono il dono di Emily Dickinson è la leggerezza dei segni con cui punteggia il suo dialogo con la vita con la morte l'erba che ha poco da fare farfalle api calabroni mosche contro i vetri che annunciano la primavera mosche ronzanti nella stanza uduti negli ultimi istanti un pulviscolo di vita in cui si contrappone il mondo minerale che connota la morte porte di diasporo stante dall'abrastro travi di raso un tetto di pietra se più non fossi viva quando verranno i petti rossi date a quello con la cravatta rossa per ricordo una briciola se non potessi ringraziarti perché immersa nel sonno sappiate che io mi sforzo con le mie labbra di granito la sua immaginazione è l'incontro tra un procedimento di pensiero d'ardua estrazione e una concretezza d'espressione che non le viene mai meno se tra un anno potessi rivederti farei dei mesi altrettanti gomitoli da riporre in cassetti separati per timore che i numeri si fondano non mi pare che collegando l'aereo parodi abbia capito davvero chi è per questo non so proprio come si faccia a capirlo anche se in questa occasione mi è venuta un'idea è venuta a me l'ho letta in questa splendida che consiglio anche come modello di biografia a chiunque sia rivolto dunque sta nascosta nascosta davvero parla a contatti ama ma anche sempre in una dimensione di distanza ma ci sono due episodi come va con la famiglia viene sempre in mente pensando al poeta piccolo e gobo di recanati non c'è male grazie verrebbe da dire nel senso che disturbano come quasi sempre le famiglie ma non tantissimo disturberanno molto di più andando a tentare di editarla perché quando è morta si può stampare sono appunto quasi un migliaio con numeri e cose molto diverse stranamente i critici ma no per carità chiedo scusa non stranamente i critici fanno i cretini ovviamente i critici fanno i cretini perché quello che dicono della prima apparizione di Emily io non lo riporto neanche il pubblico invece il pubblico compra il pubblico fa ristampare il pubblico premia le riedizioni e allora la famiglia si ricorda e si cominciano a dividere i diritti d'autore le edizioni i soprassalti quei 25 limmi li aveva regalati insomma è piuttosto alla Emily Dickinson il passaggio dal silenzio dal buio perentorio di questa camera ad Amherst al decollo verso l'universale lettura da noi appare negli anni trenta cominciano a tradurla naturalmente non funzionano gli approcci perché non funzionano mai è perché una cosa che da ex pittore io riesco a capire è che sono gli strepitosi accostamenti il sale di questa sconcertante poesia se ne leggiamo un po' di seguito noi non comprendiamo cosa succedeva in lei ma ammiriamo il prodotto di quello che succedeva in lei è uno dei primissimi componimenti è il ventitresimo perché sono per fortuna anche nel meridiano mondadoriano numerati così come desiderava che fossero secondo la loro storia avevo una guinea d'oro la persi nella sabbia e per quanto fosse poca cosa e il paese fosse ricco pure aveva tanto valore al mio occhio frugale che quando non la ritrovai mi sedetti e mi lamentai avevo un pettirosso cremisi che tanti giorni cantò ma quando i boschi arrossarono anche egli se ne volò il tempo mi portò altri pettirossi le loro ballate uguali pure per il mio trovatore assente chiusa in casa vogli restare avevo una stella in cielo tale pleiade si chiamava una volta che ero distratta vagò da un'altra parte e per quanto i cieli siano affollati e la notte tutta un luccichio la cosa non mi importa perché nessun astro è mio la favola ha una morale io ho un amico assente pleiade si chiama e pettirosso e ginea nella sabbia e quando questo canto triste verrà all'occhio del traditore in una terra lontana possa un sentimento profondo afferrargli la mente ed egli sotto il sole non trovi consolazione una cosa che può essere attribuita in tutto il lunghissimo percorso è questa dimensione del accostamento improprio questo mettere insieme un aggettivo e un sostantivo che nessuno penserebbe mai che potessero stare lì insieme in quella riga questo è il suo strepitoso coraggio inventivo mi sono permesso una volta scrivendo di lei tanto tanto tempo fa di definirla la creatività incongrua o viceversa alla Dickinson l'incongruità del creativo ci vuole un genio molto particolare a mettere insieme vocaboli elementi pezzetti di discorso metafore aggettivi che non stanno di solito insieme mi è venuta in mente una volta una strana cosa a Pesaro ho un amico un professore in pensione siamo tutti vecchi all'alberghiero di Pesaro si chiama Goffredo Pallucchini abbiamo fatto delle cose molto molto belle insieme per esempio dare il film il pranzo di Babette e farlo con la classe addetta alla cucina fare il pranzo di Babette facciamo il cineforum ho parlato ho illustrato siamo lì con Goffredo dico avanti facciamolo il cineforum silenzio Goffredo hai visto Antonio la pedagogia non ha tutti i poteri che gli attribuissi vuoi vedere che li ha avanti quali sbagli ci sono giudicando da istituto alberghiero nel film tutte le mani si alzano una cara dai te servono lo champagne stampandolo nel retro bottega se uno fa una cosa qui lo mandano all'alberghiero di Lecce le parole per dirlo valide all'alberghiero valide per noi ma perché cito Goffredo in America ha studiato in un college che gli ha dato un appartamentino ad Amherst forse avrete già capito quale ha dormito nella camera accanto a quella in cui era rinchiusa Emily perché negli anni cinquanta lo fittavano è una sorta di inseguimento strano e pericoloso perché vuol dire ricordati di me ovviamente vediamo di mettere ancora in evidenza questa modalità di fattura è qualche arcobaleno venuto dalla fiera qualche visione dal mondo di Casmer che vedo con certezza ho una purpurea coda di pavone piuma per piuma lungo la pianura che si sparpaglia via si stirano sognanti le farfalle stani in letargo riassumono il brio della canzone interrotta da un anno da qualche vecchia fortezza nel sole api trionfali marciano ad una ad una in mormorante schiera così compatti stanno i pettirossi oggi come i fiocchi di neve erano ieri nella siepe sul tetto sul ramo l'orchidea si è rimessa alla piuma per il suo antico amante mezzer sole che è ritornato in vita al pantano gli eserciti di bosco di collina immensi quieti senza generale si dispiegano splendenti guarda che moltitudini sono queste figli figli di quei mari inturbantati di qualche landa circassa ecco l'innamoramento invidioso nasce qui figli di mari inturbantati di qualche landa circassa ma fa un mare a essere inturbantato e cosa vuole dire che un mare si metta un turbante la landa circassa l'abbiamo già vista in una precedente lesione è abbondantemente trattata ma è diversa è sua questa landa circassa cioè come agisce veramente scompone distrugge disturba ha sempre sotto mano il genio della incongruità è un tipo di ermeneutica di sui ma assumo la responsabilità l'incongruità è sconvolgente è sconvolgente perché lei è un genio però perché mettere insieme delle incongruità che non conducano a nulla non vuol dire fare è una delle esperienze poetiche più importanti che abbia l'umanità oso dire l'incongruità alla Emily è sempre in realtà calcolatissima è una sfida terrificante non mi sento di dire che possa star vicino a godi fanzullo mio stato soave stagion lieta e codesta altro dirti non vuol ma la tua festa canco tardi a venire non ti sia grave il sabato del villaggio non è la Dickinson lei avrebbe inserito al posto di questa tragica logica un'incongruità terrificante che che rivela e anche di questo così devo dire che sono piuttosto stupito rivela essere figlia di qualcuno curiosamente un babbo ce l'ha anche lei e io lo prendo e lo leggo e questo babbo guarda caso moltissimo affetto collezione dei suoi testi risate degli amici e delle amiche perché perché è lord alfred tennison un eminent victorian un lord fatto lord dalla regina per il suo valore poetico che basterebbe sputtanare qualunque poeta immaginare il re canate e la faccio re venga venga malgrado la gobina venga la faccio re ma faccio lord però no 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 non è così tennison restò un grande poeta malgrado il corteggiamento della regina e fu amato da questa remotissima reclusa del new england perché le ha dato qualcosa e lei che nelle pagine di diario su cui sono ritornato dice non ci sarei né come poetessa né come persona vivente se non avessi mai letto e l'ho letta centinaia di volte di Alfred Tennyson la signora di Sarot leggiamola lungo lungo entrambe le rive del fiume si stendono vasti campi di orzo e segale che rivestono la brughiera fino a incontrare il cielo e attraverso i campi corre la strada verso la turrita camelot e la gente va e viene guardando dove i gigli sbocciano intorno all'isola lì sotto l'isola di Seloth salici impalliditi pioppi tremoli lieve brezze si oscurano e fremono nella corrente che scorre perpetua intorno all'isola nel fiume ruendo verso camelot quattro mura grigi quattro torri grigi sovrastano un prato di fiori e l'isola silenziosa di mura la signora di Seloth solo i miei titoli falciando mattiniere nell'orzo barbuto odono una canzone che cheggia lietamente dal fiume che limpido si snoda verso la turrita camelot e sotto la luna lo stanco mietitore ammucchiando covoni nell'ordioso altipiano ascoltando sussurra è la maga la signora di Seloth lì intesse giorno e notte una magica tela dai colori vivaci ed aveva sentito una voce secondo cui una maledizione l'avrebbe colpita se avesse guardato verso camelot e non sapeva quale fosse la maledizione e così tesseva assiduamente ed altre preoccupazioni non aveva la signora di Seloth e muovendosi attraverso uno specchio limpido appeso di fronte a lei tutto l'anno ombre del mondo appaiono lì vede la vicina strada maestra snodarsi verso camelot e a volte attraverso lo specchio azzurro i cavalieri giungono cavalcando a due a due e lei non ha alcun cavaliere leale e fedele la signora di Seloth ma con la tela ancora si diletta a intessere le magiche immagini dello specchio perché spesso attraverso le notti silenti un funerale con pennacchi e luci e musica andava a camelot e quando la luna era alta venivano due innamorati sposati di recente mi sto stancando delle ombre disse la signora di Seloth a un tiro d'arco dal cornicione della sua dimora lui cavalcò fra i mannelli d'orzo il sole giunse abbagliante fra le foglie e splendente sui gambali di ottone del coraggioso Lancelot un cavaliere con la croce rossa perpetuamente inginocchiato ad una dama nel suo scudo che scintillò sul campo giallo presso la remota Saloth la sua fronte ampia e chiara scintillò al sole con zoccoli bruniti il suo cavallo passava da sotto il suo elmo fluirono mentre cavalcava i suoi riccioli neri come il carbone mentre cavalcava verso Camelot dalla riva e dal fiume e gli brillò nello specchio di cristallo tirralirra presso il fiume cantò Sir Lancelot lasciò la tela lasciò il telaio fece tre passi nella stanza vide le ninfee in fiore vide l'elmo il pennacchio guardò verso Camelot la tela volò via fluttuando spiegata lo specchio si spezzò da cima a fondo la maledizione mi ha colto urlò la signora di Saloth nel tempestore vento dell'est che sferzava i boschi giallo palido si indebolivano l'ampio fiume nei suoi argini si lamentava dal cielo basso la pioggia scrossiava sopra la turrita Camelot lei discese e trovò una barca calleggiante presso un salice e intorno alla prua scrisse la signora di Saloth ed oltre la pallida estensione del fiume come un'audace veggente in estadi che contempli tutta la propria malasorte con un'espressione viterea guardò verso Camelot e sul finire del giorno mollò gli ormeggi e si distese l'ampio fiume lo portò sai lontano la signora di Saloth si udì un inno triste sacro cantato forte cantato sommessamente finché il suo sangue si freddò lentamente e i suoi occhi furono oscurati completamente volti alla turrita Camelot prima che portata dalla corrente raggiungesse la prima casa lungo l'argine candicchiando il proprio canto morì la signora di Saloth sotto la torre e il balcone vicino il muro del giardino la loggia lei galleggiò figura splendente di un pallore mortale tra le case alte silente dentro Camelot vennero sulla banchina il cavaliere il cittadino il signore la dama e intorno alla prua all'estero il suo nome la signora di Saloth chi è che c'è qui nel vicino palazzo illuminato si spensero i regali applausi e per la paura si segnarono tutti i cavalieri di Camelot ma l'ancillotto riflette per un po' e disse hai un bel viso Dio nella sua misericordia le conceda la pace alla signora di Saloth si sente che qualcosa c'è e il qualcosa è per me che sono un po' del mestiere nel senso che ho scritto ahimè migliaia di articoli su alcuni quotidiani che alla reclusa i giornali arrivavano e questo era importantissimo perché la reclusa è evidente al di là dell'epilessia su cui altri rifletteranno altre rifletteranno che quello che cercava nella reclusione quello lo cercava sicuro era l'insieme delle parole non consumate degli accostamenti incongrui volutamente incongrui del fraseggio dilacerante proprio perché l'abitudine non lo poneva così e allora sarà pur vero che non si va mai perché temeva di avere crisi epilettiche ma per me resta vero anche l'altro momento cioè che non si va mai perché ad uscire le parole si consumano le incongruità spariscono la banalizzazione di renta terrificante come un telegiornale della televisione italiana cosa avrebbe potuto fare sentendo di cosa sono capaci quanto a infame banalità i giornalisti da adesso cosa dicono dalla Gruber cosa avrebbe potuto sussurrare non c'è mica bisogno di domandarlo ce lo dà ugualmente per fortuna i suoi libri ci sono per fortuna le riedizioni vanno avanti non conoscevo la traduzione di Margherita Guidacci mi sembra di ritrovare un'altra la mia ruota è nel buio non vedo neppure uno dei suoi raggi eppure so che il suo passo stilante si volge sempre in giro il mio piede è sull'onda strada non frequentata pure tutte le strade portano a una radura alcuni hanno lasciato ormai la spola nella tomba operosa altri fanno un lavoro inconsueto altri con nuova solenne andatura regalmente oltrepassano il cancello respingendo il problema a voi e a me composizione numero 50 io non l'ho detto ancora al mio giardino per non perdermi d'animo e non mi sento ancora tanto forte da rivelarlo all'ape composizione numero 67 più dolce appare il successo a chi mai lo conobbe apprezza meglio un nettare la più crudele arsura nella schiera vermiglia che oggi ha conquistato la bandiera nessuno così bene saprebbe definire la vittoria come soldato sconfitto morente sul cui orecchio deluso lontani inni trionfali vanno a infrangersi chiari e torturanti compio un azzardo avevo detto che non mi sentivo neanche di dedicarle una lezione invece tento un azzardo sconsiderato e strepitoso a poca distanza qualche migliaio di chilometri da questa poesia gli americani si stanno scannando nell'ordine di un milione di morti con la popolazione che aveva allora l'unione lei lo sa legge tutti i giorni l'antichitam Gettisburg vogliamo ripensarla a questa poesia dell'atruce morte di un soldato se consideriamo che comunque al di là della camera chiusa c'è il massacro dell'anti Hattman c'è Stonewall Jackson che va all'assalto come se fosse un crociato c'è il generale Lee che chiede scusa ai suoi soldati per lo sbaglio strategico è morti 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 è sangue è sangue è sangue allora mi permetto un'interpretazione personale non riesco a dar conto dell'epilessia non me ne interessava quando l'ho scoperta ragazzino non me ne interessa neanche stasera ribadisco che l'ha fatta apposta ribadisco che lei i suoi libri servono per Auschwitz ribadisco la convinzione che se invece di una perenne ignoranza su Emili ci fosse una coscientizzazione del suo modo di verseggiare forse il Arbeit Knackfey non risuonerebbe in fondo cosa aveva fatto a non tanti anni di distanza dalla stanza chiusa di Anest il caporale estriaco che con il voto non con una marcia su Berlino conquistò la patria di Kant la patria di Goethe cosa aveva fatto aveva un modo di comunicare che era affascinante nella sua totale banalità durante un convegno all'università un collega fa dici filosofi stai buono Hitler leggeva la Wicart cioè la dellì la dellì tedesca ma è pericolosa la dellì tedesca se non stai molto attento cosa fa Eti di pericoloso dicelo collega e la Wicart c'è sempre uno che all'inizio o gli fregano l'eredità o gli rubano un quadro d'autore che sarebbe suo o aggiungono 47 Ugari a quelli già avuti e allora e allora è uno che va nelle billerie e dice è una grande giustizia quella che ci hanno fatto col trattato di pace ladri americani ma questo lo capiscono tutti è molto più difficile ho rivisto recentemente quel che resta del giorno è uno dei lord diplomatici chiama il cameriere che è lo stupendo Anthony Hopkins e gli dice buon uomo il calo a Wall Street producirà pastigli nelle trattative in corso a Parigi o dobbiamo piuttosto pensare a una vertiginosa corsa all'accumulo dei dati del tesoro e il cameriere risponde non capisco signore lui si volta verso gli amici e fa e ha il voto anche lui già ecco chi è riuscito secondo me a penetrare ad Auschwitz e lei da quella stanza chiusa non sapendo nemmeno e qui deve essere qualche cosa di molto strano perché non li stampa non dà disposizione perché si stampino vengono stampate dai parenti i critici fanno il loro mestiere dicono che non sono mai sentite stupidaggini così da quando esiste la stampa in America il pubblico divora edizione dopo edizione tant'è vero che ci sarà rapidamente un processo perché questi sono i miei questi 30 li ha copiati per me questi li aveva dati a mia nipote e così via ma in verità come sarà no secondo me io non mi interesso di quella malattia non mi interesso del rifiuto della vicinanza delle stupidaggini dei vicini penso a uno sberreffo terrificante potrebbe anche darsi che scambiandoli per cartacce li bruciare in effetti invece hanno salvato perfino i pezzettini di buste su cui lei scriveva e perché il pubblico la capisse subito ma adesso francamente non lo so perché l'opera del rincretinimento televisivo come dice bene Rodari in una televisione in una bellissima poesia il raduno dei cretini quello che l'hanno tenuto fuori dal radino che arriva e dice guardo sempre anch'io la televisione prendetemi il raduno dei cretini di Gianni Rodari può darsi che adesso ci si sia arrivati e non parlo di altre formule comunicative ancora più promettenti da molti echi che me ne derivano perché lo aveva già capito la riposta d'obbligo è un genio e non c'è il minimo dubbio che lo sia ma forse c'era però qualche cosa nella sua piccola dimensione territoriale non intendo la camera i luoghi il paese i vicini le fattorie gli echi di quella terrificante guerra che l'aveva indotta ad ergersi propriamente direbbe Tennyson come un crociato prima ancora che la miseria novecentesca del cretinismo ostinato di massa era nato il contra veleno era nato il rimedium perché lei è è fatta così nel senso che si avverte sempre per esempio composizione numero centoquaranta qualcosa di cambiato nell'aspetto dei monti una luce splendente che riempie il villaggio un'aurora più vasta più profonda il crepuscolo sul prato l'orma di un piede vermiglio un dito porporino sul pendio una mosca insolente contro i vetri un ragno che ritorna al suo lavoro più maestoso l'incedere del gallo un'attesa di fiori dappertutto l'assia che canta stridula nei boschi odor di felci su vie non battute queste e altre cose che non posso dire che cosa straordinaria questo e altre cose che non posso dire stava slittando serena in una descrizione quasi da pittore agli euri dove hanno i fattori o riteremo che signorini e improvvisamente ha dato la bastonata queste e altre cose che non posso dire nella nostra celebrazione un grande che ha capito c'è ma quello era poeta anche lui babbo di due registi e da me molto rimpianto perché ogni tanto riprendo la capanna indiana di Attilio Bertolucci e torno a rileggere a rileggere a rileggere negli studi in classic American literature David Herbert Lawrence che sono del 1923 l'opera è geniale ma anche parziale pionieristica di Emily Dickinson non si parla mentre si ragiona a lungo lunghissimo del caro Fenimore Cooper circa venti anni dopo Felix Otto Matheson nel suo splendido American Renaissance cita la nostra ma in 666 pagine la cita tre volte disfuggita quando i suoi compaesani e quasi cugini se non fratelli Emerson e Thoreau occupano un terzo del volume e anche più spazio giustamente è assegnato a Nathan Hawthorne alte grande figlio della Nuova Inghilterra ma già nel 1939 da noi l'acuto e non facile agli entusiasmi Emilio Cecchi insieme alla figlia Giuditta ce ne dà invece una bella monografia e soprattutto vari anticipi di traduzione che subito ci stordiscono sulle sue tracce il giovane poeta Giorgio Bassani così volge in italiano alcuni suoi nudi straordinari versi da cella da cella a cella come due congiunti incontrati sia notte parlavano finché raggiunti l'erba non ebbe nomi e bocche quando venne a Bologna Bassani non aveva un titolo per quel libro e presentava all'associazione dei commercianti Micol Finzi Contini senza alludere a un giardino perché invece ci lesse promettendo che avrebbe cambiato molto l'incontro in sinagoga è strano che si sia innamorato così presto il giovane Bassani di Emily no basta prendere quel terrificante romanzo che è l'Airone questo cacciatore che se ne va per le lande della Padania e noi siamo un po' dispiaciuti perché lui cerca un Airone bellissimo da ammazzare e lo trova infatti la sera dopo aver chiesto camera a un albergatore perché si spara in bocca con il bellissimo fucile che tutto il tempo noi abbiamo avuto tramite Bassani sotto gli occhi ho capito perché l'ha capito e anche Cecchi aveva un bell'occhio perché i libri si chiamano a caso America amara tutti vanno a vedere come si sta bene Emilio Cecchi va a vedere le schifezze immenso anglista immenso americanista ma non facile a contentarsi Cecchi e Bassani l'hanno capita in frettissima e questo è un po' anche di orgoglio nazionalistico se mi consentite il quale però non conta assolutamente niente perché non è di questo che parliamo mi dispiace che Alfredo Giuliani che ho tanto rispettato abbia un titolo ovviamente non suo per cui ordinerei la fucilazione tranquillamente al capo delle pagine culturali di Repubblica perché intitolare dolce atroce zietta un saggio su questa poetessa è roba da farmi pensare di stracciarla questa preziosa pagina di tanto tempo fa appunto caro Giuliani io lo so che non l'hai scritta tu che sei innocente so anche che però non è un tipografo è un qualche lazzarone che sta tra te e i tipografi qualche malversatore dolce atroce zietta a Emily Dickinson perché oso riportare questa schifezza perché non è mica difesa perché sono in agguato degli ermeneuti che ancora non sono venuti fuori ce l'avrà anche lei il mascalzone o la banditessa che finiranno col non capire nel modo più assoluto per fortuna c'è una difesa memorabile ho avuto occasione di lodarli con affetto al morente Mondadori le piacciono mi piace l'idea che abbiamo dei monumenti che stanno in mano e effettivamente il meridiano a lei dedicato mette tutte le traduzioni che servono bravo non una traduzione sola ma più traduzioni come in quella camera di Aner avrebbe pensato di poter avere anche lei composizione numero 201 due naufraghi all'albero abbracciati resistettero fino al nuovo giorno quando uno sorridente si volse verso terra che fu mio dio dell'altro rare navi passando un volto scorsero dalle acque portato di occhi ancora imploranti nella morte e le mani protese alla preghiera due naufraghi certo sarebbe una cosa così da considerarsi quasi religiosamente l'idea di poter entrare e non sarà ovviamente mai possibile in questo cantiere quelle belle interviste cretine quando vi venne l'ispirazione Gadda ero lì lì mi sparavano addosso gli austriaci e voi stavate a pensare a un romanzo e quando volete che si pensi ai romanzi se non quando ti sparano gli austriaci Gadda voi mi prendete sempre per guardate che non si può dire c'è la censura democristiana ma ho capito il concetto e stavate bene davvero lassù mentre si bilavano i proiettili dopo non sono mai stato così bene cosa vorrebbe da me Gadda signorina non si offenda che mi lasciasse nell'ombra che mi dimenticasse grande anche nelle miserie della vita 203 egli dimenticò e io ricordai fu cosa da ogni giorno come in passato Cristo e Pietro si scaldarono al fuoco del tempio tu eri con lui disse la serva no negò Pietro non ero io Gesù solamente guardò guardò Pietro e cos'altro con te potrei fare io Calvino era innamorato e lo dichiara qua del numero 265 che ha solo quattro versi dove navi di porpora oscillan dolcemente su mari di giunchiglie dei marinai fantastici s'aggirano e poi il molo è silente sì è straordinaria in quattro versi perché mette insieme con quel silente una condizione di fruizione immaginativa che ovviamente stabilisce un contatto e un contrasto di tipo furibondo con l'icona del marinaio salgariano sinbad ed è a pensarci bene quasi tutto così ultima misteriosa e molto strana un messaggio un messaggio poetico un messaggio di vita un messaggio di riflessione con gli ultimi canti di lei si spense la poesia insieme alla sua lingua l'argento si è dissolto ma mai che si sappia gorgheggiò altra voce di flauto o di donna di tempra così divina né al mattino d'estate il pettirosso sciolse metà dell'armonia che sgorga dall'anglo-fiorentina in note incomparabili all'ascolto tardivo giunse il risonossimento non ha senso deporre su quel capo troppo alto per essere coronato diademi o d'ornamenti di trionfo sia la sua tomba sufficiente insegne noi non l'abbiamo conosciuta eppure un dolore non facile ci stringe cosa avremmo provato se da sposi l'avessimo in Italia seppellita chi è che non ci dice chi è è Elisabet Barrett Browning e lo sberlefo c'è anche qui perché la tomba a Firenze di Elisabet Barrett Browning è visitabile anche domani e perché dice ah l'avessimo seppellita in Italia certo le ragioni sono perché adorava l'Italia e voleva appunto finire i suoi giorni lì ma c'è qualche cosa di tipicamente Emily nel dirci che non l'hanno veramente seppellita perché perché è così poco conosciuto il fatto che l'adorante dell'Italia Elisabet Barrett Browning si è sepolta proprio a Firenze che è come che non l'avessero seppellita bisogna cominciare a prendere sul serio le sconcertanti stranezze per entrare nel mondo della dolce atroce zietta basterebbe a condannare la stampa io sono sicuro che non è Alfredo Giuliani però della disegnatrizia tedesca che Anna ha scelto per star vicino a Emily Dickinson voi più che altro adesso vedrete perché io che l'ho in un certo senso scoperta sono stato il primo che ha scritto di lei ho scritto anche varie cose su di lei sono qui sempre a meravigliarmi che un tale prodigio sia nostra contemporanea si sia inventata tutti i modi e quindi accanto ad Emily Dickinson Lisbeth Werger il fatto che assolutamente nostra contemporanea operosa dagli anni settanta in realtà sa recuperare in modo tecnicamente da lasciare allibiti tutta la tradizione dell'illustrazione del fiabesco tedesco dal tripudio illustrativo suscitato dei Grimm fino al semplicissimo fino ai grandi giornali del novecento perché se guardate il rapporto tra teschio e perfidia e cappellaccio nero dell'immagine sulla destra e guardate la pacifica fame della coppia di bambini dovete anche prendere nota della finezza ad acquerello che concepise come alterità misteriosa qualche cosa che è nostro contemporaneo mentre è legatissimo anche al bieco procedere dei due fratelli raccoglitori attentissimi ma anche ermeneuti tremebondi e l'Hilbert è un genio anche nella costruzione perché ci vuole un bel fegato a mettere questo albero in una situazione di perentorietà con i lati bianchi e sistemare la fanciulla a stretto contatto con l'albero con una coloritura anche quella capace di venire dopo la grandezza pittorica del novecento innovativo ma ritrovando l'ottocento dei nazareni ritrovando le grandi imprese tipografiche di Norimberga di altre città ma le Nuremberga sono più note e più importanti e sempre Lisbeth non ha un loro vacui come ha Iacovitti ovvero si può permettere di fare una sorta di zeta di vuoti perché devono esserci così che la fanzulla scrivente abbia un luogo di dominio mentre importantissimo è il terrificante segnale che viene emesso dalle forbici forbici ma anche ferroce pugnale se si volesse Lidbert Berger non ha fino adesso secondo me trovato allievi allieve e capisco questo isolamento pittorico illustrativo ho dato la cazza nei 14 anni in cui ho proseguito la giuria che giudicava gli illustratori per il premio Fiero di Bologna a possibili seguaci un po' dovunque di Lidbert Berger non ce ne sono ha una solitudine che ricorda davvero quella di Emily e ci sono certo questo unico fiammingo lo ricorda comunque questo un modo di andare perfino fino a Bruegel lo troviamo nello stesso tempo però c'è una volumetria ottocentesca c'è un sapore di sapientissima bottiga tipografica che ne fa qualcuno di straordinario abbiamo riso tantissime volte quando io pretendevo di dare dei consigli che le muovevano solo una scrossiante ilarità questo è una sorta di grande impegno di recupero complessivo delle misure mitiche del fiabesco però lasciatemi dire che questo finalmente è anche la Dickinson doveva essere proprio così il momento in cui scattava quel tale verso in cui un albatro diventava simile a un cannone operoso a Gettisburg doveva essere proprio così quella cercata solitudine che tuttavia è una solitudine tumultuosa perché i suoi versi non la lastiano mai così come in questo caso la fanciulla protagonista è visibilmente in pericolo proprio perché non c'è nessuno e prosegue l'Hitperberger nel suo discorso così particolare del quale adesso ho messo metto in in evidenza da ammiratore perpetuo del mio concittadino Morandi il valore di un cromatismo che non ha niente a che vedere con altri cromatismi qui ci sono degli ocra dei grigi resi più corposi col violetto una grande capacità di far rifugere quel bianco e soprattutto è come se le figure e questo succede molto raramente penserei a Munch come un maestro di Lisbeth che ridendo non li vuol rivelare perché l'uscita dal quadro il proporsi oltre la dimensione del tinteggiare di sfondo è qualcosa che c'è moltissimo anche qui ed è uno degli elementi di ricerca della pittura dell'avanguardia novecentesca tutta intera e anche qui il rapporto con i vuoti consente a Lisbeth di fornirci una sorta di ermeneutico visivo del lato più terribile più torpido del viabesco che non è quello degli orchi esibiti dei lupi affamati dei guerrieri impazziti per la birra è quello di ciò che accade nel quieto vivere della quotidianità è lì che ci sono le cose più tremende e allora Lisbeth come se fosse Dickinson se li mostra con questo allungamento prospettico che però non gode dell'avvicendamento delle tinte è tutto come rinchiuso in questo ansiogeno colore senza definibilità così poi che l'animalry di Lisbeth si potrebbe considerare anche perché lei stessa questo però l'ha detto nelle interviste in epoca di fiera un antidisneismo professo ribadito che qui è evidentissimo perché per ragioni che erano proprio di Walt che le imponeva da fortissimo dittatoriale dominatore della Disney che andava dappertutto metteva le mani dappertutto anche se non disegnava e qui tutto è spinoso tutto è aguffo tutto è puntuto come invece tutto è in Disney curvilineo in certa misura paccioccoso volutamente mentre qui c'è della feroza da vendere e lasciatemi dire capolavori inusitati come questo dove è tale l'abilità tale la forza tale la capacità di rendere credibilmente terribile lo spunto disegnato da far diventare il peggio dei peggi queste immagini che in più modeste non geniali come a Lisbeth capacità pittorico adornative visive banalizzerebbe qui invece abbiamo il terribile del fiabesco lunghianamente terribile del fiabesco è certamente possibile da come colloca animali insetti piccole tragedie di bosco nei suoi versi che qualcosa del genere figurativamente avesse nella fantasia anche Emily straordinario il rapporto tra il muro tra la testa e la forza raffigurativa inclemente delle zampe straordinario anche il livello di antropo formizzazione che è quello che umilia o fa levitare nell'empireo i grandi disegnatori del fiabesco e del fantastico lei ci è riuscita in un modo insinuante e anche quello ricorda il fantasticare di Emily moltissimo Emily questo rapporto tremendo tra questa figura nera e solinga è troppo veloce comunque e allusiva nei confronti di qualcosa di tremebondo con uno sfondo volutamente trasandato da far quasi intendere che siamo entrati come in Hoffman succede come in Anderson succede entro non uno spazio naturale ma dentro la bizzarria Hoffmanniana dell'inconsueto dell'inconsulto del totalmente figurativo anche questo brilla di sinistra luce nei versi della Dickinson e questo torturare alla Aldolf questo mettere quello stivale e quelle calze in quella evidenza questo sempre concedere molto allo spazio e quella feroce capacità di far così le mani sono tutti elementi che riportano a una dimensione del fantastico che non si vede in giro anche il fulrorezzare per esempio che si ha da quando è morto il grande Sergio che il figlio è diventato il padrone dell'azienda nella produzione Bonelli dove tanto più quieto e dolce era il babbo tanto più è rampante e graffiante il figlio di Landog è diventato molto più cattivo di quando c'era il babbo però non arriva nessuno a questo graffio domestico a questo livore quotidiano e questo è anche più feroce perché la dimensione della quotidianità scientifico medica messa messa a posto a far da cornice solennemente domestica quotidiana alla presenza di un demone caprigno e lì si deve vedere che non farebbe così paura non farebbe così timore quasi anche un po' di pathos se non ci fossero quelle perfette delineatissime curatissime gambe del canapè che rimandano invece a un quieto studio psicoanalitico e poi ovviamente è il sacrificio di un quinto sulla sinistra che fa paura che fa ansia cornice voluta a dar conto di una dimensione totalmente satanico sofferta asinello tollerato ma tutto l'impianto va alla caccia di citazioni qui si che il lato destro estremo un po' deride Disney ma lo deride con tale cattiveria con una tale forza operativa da fare intendere che Lisbeth ha proprio da solo ha cambiato la fisionomia del fiabesco novecentesco e questo è direi l'ideale copertina non ancora mai vista di un nuovo libro di versi ritrovati di Emily Dickinson perché questo è davvero il suo stesso mondo tutta l'incongruità di questa splendida immagine si riverbera nei suoi versi e qui bisogna essere straordinariamente colti sul piano della sapienza iconografica perché qui ci sono delle fonti è chiaro che tutta l'apoteosi del più leggero come lo chiamavano il pallone rispetto al più pesante che era l'aeroplano e quindi è verniano come elemento ma è anche riferibile ai pittori aero pittori della nostra dimensione futuristica nel senso che operavano tantissimo sulle varianti del volo e questo è ciò che si vede in basso a destra coraggio estremo addirittura proprio derisione della committenza pochissime volte questo coraggio c'è perché la grande grande icona rossa è una sfida perentoria alla tradizione illustrativa della letteratura per l'infanzia che azzardi così non ne tenta in questo rosso ci sono riverberi tizianeschi così come ci sono degli elementi all'el greco come ci sono citazioni fiamminghe tutto però sempre concentrato in una dimensione di volatile sofferenza quindi molto alla Dickinson per dare un'idea che o la fiaba va in un altrove o non è fiaba allora magari è favola ma forse neanche quello oggi la letteratura per l'infanzia e la sua illustrazione di questo coraggio spesso se ne dimenticano e questo ovviamente è certamente un omaggio molto indiretto o direttissimo alla Dickinson perché si infiltra ogni tipo di dubbio amaro di perfidia alimentare partendo dal più banale terzetto che si possa immaginare il cucchiaio alla forchetta e il coltello bisogna avere questa classe illustrativa straordinaria per riuscire a farci paura senza cambiare minimamente senza fare come fanno i fumettisti di oggi che complici i nuovi strumenti lei rigidamente è solo china diluita pennino e ritocco con qualche po' l'acquarello e basta mentre oggi ci sono macchine micidiali che però non possono fare i contorni sottili della forchetta e anche questo è un saggio di straordinario a livello immaginativo perfido e domestico insieme perché non riusciamo a separare l'idea dell'uccisione della prigionia della sofferenza della estrapolazione dall'habitat in questo personaggio così quieto e così tremendamente sinistro in questa curiosa vogliera dove non si avrebbe molta voglia ad andare ad abitare e qui è chiamato invece in causa uno delle scatturigini più nobili più presenti ci sono degli elementi narrativi insospettabili in Nabokov che non ha scritto solo Lolita per fortuna oppure in narratori tedeschi alla Gunther Grass oppure certamente in tutto quel patrimonio che bisognerà una volta o l'altra riscoprire mettere in mostra studiare mettere insieme anche con un po' di nomi se fatto qualcosa del genere molto utilmente in un convegno in ottobre all'Accademia di Belle Arti ma bisognerà continuare sulla falsariga di quel convegno e qui è proprio lasciatemi dire il solitario genio di Lisbeth Berger perché di spalle con niente o quasi davanti però con la sola apertura ansiogena del tremendo del tremendo risguardo coloristico che viene offerto come un ventaglio ma è ventaglio mortifero oppure chiamando in causa il piccolo principe e soprattutto sento exuperi sanno quanto deve la fiaba al deserto ma lei facendolo volteggiare e costruendo così bene il rapporto tra fassia e deserto e poi con la sua immensa capacità tecnica di dare quei leggerissimi ma perentori contorni ha fatto il resto qui andiamo ovviamente a recuperare da lì secondo me battendolo perché il gioco che opera con l'animalizzazione del quadrante e il rapporto a tre tra l'incubo di questa camera vuota la fanzullina e il terrificante antropomorfismo dell'orologio sono qualche cosa di veramente terribile poetico certo come la dici non come certi i suoi versi non meno tremendi di questo con questa capacità ribadita galliveriana è stato detto giustamente galliveriana perché chi sa fare questo rapporto chi lo sa costruire chi lo sa ideare arriva fino a swifter e al suo mondo retrocede quindi alla fucina dell'immaginario europeo e riparte di lì e qui è l'abilità tecnica che è stupefacente perché mette nella dimensione spalle dietro muro roccia qualche cosa che si toccherebbe con le mani tanto è iperrealistico ma la figura in alto a sinistra non lo ha fatto a ribadire che siamo nella finzione nei termini più assoluti e la coloritura genialmente tenuta entro una gamma di grigi di perle con solo l'eccezione della carne è qualche cosa che dà ansia di per sé ma se non l'avessimo ce lo darebbe il raguaglio su la strano castello o direzione di lager che è laggiù in fondo grazie per la volta attenzione l'anima 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 Grazie a tutti.